Buongiorno a tutti, sono Chiara Silvestro e sono un funzionario tecnico della Regione Piemonte in carico al settore difesa del suolo che fa parte della Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Trasporti Logistica. Oggi parliamo delle opere di difesa presenti lungo i corsi d'acqua piemontesi, seguendo quella che è la classificazione del sistema informativo Catasto Opere di Difesa che la Regione ha voluto a partire dal 2001 per censire quanto realizzato lungo i corsi d'acqua. Cominciamo con le opere longitudinali che fanno parte, come vi dicevo, di questo sistema informativo che individua le opere come opere idrauliche e opere di versante. All'interno delle opere idrauliche, che sono quelle che vedremo oggi, distinguiamo poi diverse tipologie tra trasversali longitudinali e altri tipi di opere che vedremo. Le opere longitudinali si chiamano così perché sono realizzate parallelamente alla direzione di flusso della corrente del corso d'acqua. Hanno una serie di funzioni, la funzione prevalente e la funzione antierosiva, cioè difendono dall'erosione e sono le classiche difese di sponda come ci immaginiamo. Però hanno anche come effetto quello di aumentare la velocità dell'acqua e nel caso degli argini di contenere i volumi dell'acqua in transito. Per intenderci parliamo di sponda destra e sponda sinistra, stiamo parlando delle opere longitudinali, intendendo con destra e sinistra un osservatore che ha le spalle a monte che guardano la monte del bacino e il volto rivolto verso valle. Le difese di sponda nel nostro sistema informativo sono suddivise in questo modo, scogliere gabbioni, opere di ingegneria naturalistica e muri. Le scogliere sono realizzate con dei massi di cava che possono essere cementati o a secco come in questo caso. Vengono cementati quando abbiamo necessità di far fronte a un'energia dell'acqua molto alta che tenderebbe a portarle via, a distruggerle. Però possono anche essere realizzati in massi d'alveo quando nell'alveo ci sono dei massi di dimensioni sufficienti per poterle costruire e possono essere anche in questo caso cementate o a secco. Oppure non si usa più tanto realizzarle oggi così, le difese di sponda possono essere realizzate anche con dei blocchi di calcestruzzo. Qui ne vediamo una integra e si usavano molto tra gli anni 70 e gli anni 80 e questa invece è stata demolita dalla corrente. Vi sono poi i gabbioni. Anche in questo caso sono delle opere che vengono realizzate utilizzando il materiale direttamente dall'alveo. Sono delle gabbie metalliche riempite di ciottoli e hanno diciamo il vantaggio di essere più flessibili rispetto alle scogliere. Invece le difese in ingegneria naturalistica sono realizzate con materiale vivo, cioè con legname, pietrame e anche delle specie vegetali e hanno un'ottima resa soprattutto laddove non devono far fronte alla corrente con troppa energia di un corso d'acqua. Quindi vanno molto bene lungo i canali e addirittura con l'andare del tempo poi non si vedono nemmeno più e hanno un ottimo effetto sulla trattenuta del terreno perché agiscono le radici delle specie che vengono piantate. E poi ci sono i classici muri in calcestruzzo che sono delle strutture molto rigide e quindi se devono lavorare in condizioni di erosione del fondo mal si adattano ai cambiamenti del terreno però hanno il vantaggio di occupare molto poco spazio all'interno della sezione del corso d'acqua e quindi in certi contesti soprattutto urbani sono molto utilizzati. Possono essere realizzati chiaramente in cemento armato oppure in massi cementati come in questo modo. Altre difese antierosive sono invece le canalizzazioni. Le canalizzazioni le abbiamo distinte tra sezione aperta solo fondo alveo, sezione aperta e sezione chiusa. Quelle di fondo alveo si possono incontrare molto spesso in prossimità dei ponti perché hanno proprio la funzione di contrastare l'erosione di fondo e quindi servono per proteggere le spalle e le pile del manufatto di attraversamento. Invece sono a sezione aperta se oltre al fondo viene protetta anche la sponda destra e la sponda sinistra. Sono delle tipologie molto utilizzate anche in ambito montano oppure negli attraversamenti dei centri abitati perché hanno il vantaggio anche di aumentare la velocità della corrente per cui molto spesso le troviamo in associazione con dei salti di fondo con delle soglie come vedremo poi più avanti. Le canalizzazioni a sezione chiusa non hanno chiaramente una funzione antierosiva immediatamente comprensibile come le precedenti sono più che altro realizzate, sono in sotterraneo e sono realizzate per far transitare il corso d'acqua al di sotto di infrastrutture o soprattutto nei centri urbani e non sono chiaramente delle opere auspicabili perché hanno una sezione fissa che può essere non sufficiente a far transitare una portata di piena e quindi con tutti i problemi che poi possono conseguire come ci ha insegnato per esempio l'alluvione di Genova degli scorsi anni. Infine le opere longitudinali per eccellenza che servono per contenere i livelli di piena più che diciamo contrastare l'erosione sono gli argini. Gli argini sono dei manufatti che si elevano su piano campagna raggiungendo una quota superiore a quella appunto del piano campagna e hanno la funzione di contenere l'acqua che esonda dal corso d'acqua. Possono essere argini in terra che noi chiamiamo inerbiti oppure possono essere degli argini rivestiti cioè degli argini in terra sul paramento lato fiume dei quali viene realizzato una scogliera o una gettata di cemento per cui svolgono anche una funzione anti erosiva oltre che di salvaguardia di se stessi. In Piemonte possiamo trovare anche degli argini realizzati in gabbioni come prima abbiamo visto le difese di sponda soltanto che appunto i gabbioni hanno non sono in grado di contenere una portata liquida che transita per molte ore perché sono permeabili quindi vengono utilizzati soprattutto in ambito montano e svolgono una funzione di contenimento più che altro di masse di acqua e sedimenti. Possono anche essere realizzati degli argini in massi come in questo caso con gli stessi problemi degli argini in gabbioni nel caso in cui dovessimo contenere dei volumi d'acqua per molto tempo ma in genere li troviamo in ambito montano. L'argine più conosciuto invece nei centri abitati è certamente il muro che come abbiamo visto prima per le difese di sponda ha il vantaggio di occupare poco spazio all'interno della sezione ed alveo quindi quando le sezioni sono ristrette non possiamo che intervenire in questo modo. Questo è un esempio è chiaro che la progettazione avviene su una certa portata e quindi non è che la realizzazione di un argine mi mette al sicuro da qualsiasi genere di evento alluvionale. abbiamo parlato delle opere longitudinali adesso andiamo a vedere le opere trasversali a differenza delle precedenti sono opere realizzate perpendicolarmente alla direzione di deflusso del corso d'acqua quindi costituiscono dei veri e propri ostacoli se vogliamo. Il nostro sistema informativo distingue tra briglie di trattenute e filtranti soglie e pennelli. Entriamo nel merito intanto delle loro funzioni. Un'opera trasversale ha come prima funzione quella di fissare la quota del fondo alveo e questo per contrastare l'erosione di fondo. Fissare la quota di fondo alveo mi permette anche soprattutto se io ne realizzo una serie di correggere la pendenza del corso d'acqua e ritorniamo un po' al discorso che abbiamo visto prima dei salti di fondo delle soglie della batteria di soglie per cercare di raggiungere una pendenza di maggiore equilibrio dove cioè l'acqua abbia una capacità erosiva inferiore. Nel caso in cui oltre a fissare la quota di fondo alveo vado a trattenere un volume di materiale solido parlo non più di soglie ma di briglie. Le briglie quindi oltre alla funzione tipica delle soglie aggiungono lo stoccaggio di materiale solido e anche in alcuni casi hanno una funzione di stabilizzazione dei versanti instabili e ora lo vedremo. Intanto la briglia classica in genere ce la immaginiamo così costituita da un vero e proprio sbarramento con una gaveta che è la parte ribassata dove transita l'acqua durante i periodi diciamo ordinari e delle ali che si immorsano all'interno della sponda destra e della sponda sinistra. Questa è una classica briglia di trattenuta che quindi trattiene, si riempie di materiale solido alle sue spalle e nel caso in cui i versanti a monti siano in frana questo materiale serve a stabilizzare il piede del versante. Ecco perché anche briglie di stabilizzazione. Questi sono materiali possono essere i più svariati, queste sono realizzate in muri cellulari, è evidente che hanno una funzione di interrompere la pendenza del corso d'acqua e nello stesso tempo creare una base stabile per le fondazioni di questi viadotti. Possono essere realizzate come queste in ghisa oppure in materiale tipico dell'ingegneria naturalistica cioè in legname e pietrame. Le briglie se sono degli sbarramenti di una certa rilevanza cioè di una certa altezza rischiano di essere erosi al piede dal salto che l'acqua fa quindi spesso sono accompagnate a valle da una briglia più piccola che si chiama controbriglia che serve a creare una base stabile proprio perché anche questa si riempie di materiale impedisce l'erosione della briglia principale. Le briglie oltre che di trattenuta possono essere filtranti cioè cosa vuol dire che trattengono il materiale più grossolano ma permettono il passaggio del materiale più fine. Sono realizzate anche queste soprattutto in ambito montano e come in questo caso possono dare origine a delle vere e proprie diciamo vasche di deposito. Invece la soglia a differenza della briglia che trattiene il materiale non ha questa funzione ma ha la funzione di fissare la quota di fondo alveo come abbiamo già visto. Sono molto spesso realizzate a valle dei ponti, degli attraversamenti perché creano, spezzano la pendenza, creano quindi una pendenza inferiore a favore della stabilità della struttura che sta a monte. Possono essere realizzate nei modi più svariati, una volta addirittura si realizzavano creando delle vere e proprie rampe che oltre a fissare la quota di fondo alveo hanno il vantaggio di dissipare l'energia dell'acqua. Come dicevamo già precedentemente le briglie possono essere realizzate in batteria in associazione ad esempio a una canalizzazione del fondo e a delle opere di difesa spondali e questo consente ovviamente di avere in teoria una pendenza di equilibrio e una capacità meno, una capacità erosiva diminuita del corso d'acqua. Vi porto l'esempio di quello che è accaduto sulla stura di Lanzo durante l'alluvione del 2000, una importante erosione ha interessato la sponda destra in comune di Robassomero, qui siamo tra Robassomero e Cirie. L'erosione ha portato via il rilevato di accesso al ponte. Negli anni successivi il ponte è stato ricostruito ed è stata realizzata questa soglia a Valle del Ponte per proteggere le fondazioni. Se scorriamo nell'arco del tempo dopo l'alluvione del 2011 e al giorni nostri possiamo vedere come questa soglia in realtà sia fortemente danneggiata. Questo per dire che la realizzazione di una soglia non ci mette al sicuro dai fenomeni erosivi se il corso d'acqua è in un forte stato di disequilibrio dinamico, quindi non è la realizzazione di un'opera che ci salva dagli effetti anche devastanti a volte dell'azione di un fiume. Le traverse sono anch'esse come le soglie delle strutture trasversali che hanno come obiettivo principale non la stabilizzazione del fondo alveo ma la derivazione di una certa portata d'acqua regolata. È evidente che essendo strutture fisse fissano comunque la quota di fondo alveo, quindi anche quando una traversa non è più attiva andare a eliminare la traversa è un'operazione delicata che richiede attenzione perché modifichiamo la pendenza del corso d'acqua. Le traverse possono essere di vari tipi, attualmente se ne realizzano anche di molto grandi che alloggiano al loro interno delle turbine. Ultima opera trasversale che vediamo sono i pennelli. Non sono delle vere opere trasversali nel senso che vanno dalla sponda destra alla sponda sinistra, sono adiacenti ad una sponda e sporgono verso il centro dell'alveo controcorrente, a favore di corrente o in maniera diciamo neutra. La funzione dei pennelli è una funzione antierosiva, nel senso che favoriscono il deposito del sedimento tra un pennello e l'altro, generalmente sono realizzati in batteria e hanno però anche una funzione idraulica a volte, cioè servono a indirizzare la corrente magari verso il centro dell'alveo o verso la sponda opposta. Questi sono pennelli realizzati che nascono già interrati e che hanno una funzione di trattenuta del terreno per la ricostituzione della sponda. Li vediamo in questo caso, erano stati appena costruiti e a distanza di tempo il loro effetto effettivamente è stato positivo e la sponda si è ricostituita e è anche ricresciuta la vegetazione. Questo sia sempre dal ponte di Robassomero che abbiamo visto poc'anzi, i pennelli sono stati realizzati per consentire il deposito di materiale lungo la scogliera ma anche per indirizzare la corrente verso il centro alveo. L'effetto di un pennello e della vegetazione lungo le sponde consente, come vediamo in questo filmato, di avere effettivamente una corrente con una velocità minore anche durante una piena, come in questo caso dove si vede sullo sfondo la corrente veloce, mentre lungo la sponda l'acqua è calma. Parliamo ora invece delle opere, di opere particolari che non si vedono molto di frequente e con un accenno anche ai ponti, gli attraversamenti che non sono effettivamente delle opere di difesa ma sono delle opere interferenti, ma sono così importanti perché costituiscono diciamo un'interferenza pesante sul corso d'acqua che è necessario conoscere dove sono, lo stato in cui sono e quindi noi ne effettuiamo comunque il censimento. I ponti possono essere ad arco, attravato, ora lo vediamo, ma la definizione di ponte la diamo quando la luce libera, cioè la dimensione perpendicolare alla direzione di scorrimento della corrente, è superiore o uguale a 6 metri. Al di sotto li chiamiamo attraversamenti. Abbiamo detto i ponti possono essere ad arco o possono essere attravata. Chiaramente la luce libera complessiva di una struttura è data dalla somma delle varie luce libere, cioè degli spazi compresi tra le pile o le spalle e le pile. Possono essere di diverse tipologie e su questo non mi soffermo e anche gli attraversamenti possono avere delle forme diverse, possono essere ad arco, possono essere degli scatolari, insomma sono delle strutture di attraversamento decisamente più contenute rispetto ai ponti e li troviamo soprattutto per scavalcare, quando le strade scavalcano dei rio all'interno dei centri abitati. Veniamo invece a parlare di opere un po' più particolari. Mi riferisco in particolare agli scolmatori e canali di gronda e alle casse di espansione e vasche di laminazione. Definiamo uno scolmatore un'opera che serve, che ha come funzione principale quella di convogliare l'acqua all'interno di un altro canale in modo da ridurre il volume di acqua che transita generalmente in un centro abitato, cioè in una sezione che ha una geometria fissa e che non può far transitare più di un certo volume d'acqua stabilito in genere attraverso un progetto e lo scolmatore allontana una certa portata d'acqua, mentre invece la cassa di espansione o la vasca di laminazione ha una funzione di stoccaggio, cioè di accumulo del volume d'acqua che viene poi rilasciato in un secondo momento quando la piena è transitata. Questo è un esempio di uno scolmatore. C'è un corso d'acqua che va a finire all'interno di un centro abitato con una sezione insufficiente per la portata di progetto definita, pertanto è stato realizzato un manufatto, cioè un vero e proprio inalveamento artificiale in parte in cielo aperto in parte intubato e questo nuovo corso d'acqua è interessato quando c'è acqua continuamente da un flusso liquido, mentre invece il canale di Gronda ha la stessa funzione ma si attiva soltanto quando la portata all'interno del corso d'acqua principale raggiunge un certo livello, una certa portata, quindi c'è un manufatto che si chiama in Cile che permette all'acqua di entrare in questo canale artificiale. Le casse di espansione e le vasche di laminazione, come dicevamo, hanno invece una funzione di stoccaggio di un volume d'acqua. Diciamo che la vasca di laminazione, che si può trovare anche in ambito montano, è attraversata direttamente dal corso d'acqua e in ambito montano appunto ha la funzione più che altro di trattenere il materiale solido che viene trasportato. In genere siamo in condizioni dove i dissesti sono legati prevalentemente al trasporto solido. Vediamo un esempio di vasca di laminazione invece in territorio collinare. Siamo sul Belbo, in comune di Nizza Monferrato. Qui è stato, dopo l'alluvione del 94, sono state realizzate delle opere importanti. Il rio Nizza, che è un affluente di sponda sinistra del Belbo all'interno dell'abitato, transita tra le case con una sezione di questo tipo, quindi totalmente artificializzata, ma soprattutto una sezione che è costituita dalle abitazioni stesse. Quindi il volume di acqua che può transitare qui è un volume ben definito. Siccome il rio Nizza ha una portata superiore a quella che può transitare tra le case, al seguito dell'alluvione, dicevo, è stato fatto questo intervento a monte dell'abitato, cioè è stata realizzata una vasca di laminazione, intanto traslando il corso del rio Nizza e poi realizzando questo spazio attraversato dal rio Nizza, che è in grado di invasare 400.000 metri cubi di acqua. È stato realizzato ponendo sul perimetro degli argini, degli argini inerbiti, come quelli che abbiamo visto precedentemente. Sono poi stati realizzati degli scarichi di fondo per consentire di svuotare totalmente la cassa una volta che questa ha invasato l'acqua, ma l'opera principale, più importante è sicuramente questo manufatto che si trova allo scarico della vasca in uscita, che è costituito da uno sfioratore al di sopra del quale l'acqua appunto sfiora quando raggiunge un certo livello oltre il quale verrebbe messa in crisi la vasca stessa, l'acqua comincia a sfiorare e passa direttamente nel rio a valle dell'opera. Se invece il livello dell'acqua è tale per cui non arriviamo a attivare lo sfioratore, l'acqua fuoriesce da questa sezione, che è una bocca tarata, cioè si tratta di semplicemente un'apertura che fa defluire una portata regolata che è in grado di transitare senza danni all'interno del centro abitato. La vasca si è attivata durante l'alluvione del 2008, come si può vedere, questo è il rionizza che passa e che sta riempiendo il suo volume a disposizione e qui dove c'è la freccia bianca c'è lo sfioratore che è questo. Lo sfioratore non si è attivato, si è attivata ovviamente la bocca tarata e l'acqua ha potuto transitare in maniera regolare. Il problema del rionizza però era anche legato alla sua confluenza in quanto la piena del belbo può essere contemporanea alla piena del nizza e se il belbo è in piena il nizza non è in grado di scaricare le acque nel belbo, il che significa che il rigurgito del belbo fa andare in crisi grave tutto l'abitato. Quindi che cosa è stato fatto? Si è realizzato un sifone, cioè è stata traslata la confluenza del rionizza dalla sua originaria più a valle realizzando un passaggio in sotterraneo e questo è l'imbocco. Il rionizza arriva qua, salta dentro questa struttura sotterranea, passa al di sotto della ferrovia e sfocia poi più avanti in una zona dove ci sono meno problemi per avere una confluenza con i due corsi d'acqua in piena. Passiamo ora a parlare invece della cassa di espansione. A differenza della vasca di laminazione, la cassa di espansione viene realizzata accanto al corso d'acqua. Qui siamo nell'abitato di Canelli, sempre sul belbo, anche in questo caso siamo in una situazione di corso d'acqua che passa confinato all'interno di un centro abitato con opere di contenimento molto importanti e ponti che non si possono in nessun modo rifare. Pertanto per consentire un transito regolare del belbo in piena è stata realizzata questa enorme opera a monte dell'abitato. Anche in questo caso si è trattato di realizzare degli argini di contenimento molto importanti ed è stata costruita una cassa di monte che è la prima a riempirsi che va poi ad alimentare una cassa di valle. Il tempo in cui queste due casse si riempiono è tale per cui il belbo dovrebbe avere già smaltito la sua piena e quindi quando l'acqua viene restituita in belbo la piena è già transitata. La capacità di invaso è di 1.800.000 metri cubi, la superficie occupata è una superficie molto importante e la cassa oltre a essere realizzata da degli argini ha delle opere se vogliamo anche molto semplici che sono degli sfioratori. Uno sfioratore in ingresso è stato realizzato un restringimento sul belbo che provoca l'aumento del livello dell'acqua la quale poi sfiora all'interno di quest'opera e pian piano riempie la prima cassa. Quando la prima cassa è piena, qui siamo durante l'alluvione del 2008 diciamo che si era parzialmente attivata, un secondo sfioratore, uno sfioratore intermedio va ad alimentare la seconda cassa. Quando la seconda cassa comincia ad avere un certo livello dell'acqua, questa defluisce attraverso uno sfioratore di emergenza e torna ad alimentare il belbo. Allora abbiamo visto le opere di difesa longitudinali, trasversali, le opere particolari. Adesso andiamo ad analizzare quelli che sono gli effetti negativi delle opere idrauliche lungo i corsi d'acqua, premesso che ci sono delle situazioni dove non si può fare a meno di realizzare delle opere di difesa. Vediamo dapprima gli effetti delle opere anti-erosive, quindi quelle che abbiamo visto, soprattutto scogliere e argini e anche diamo un'occhiata a che cosa succede con le opere di trattenuta. Le opere di difesa, quando vengono realizzate con continuità per un lungo tratto, provocano delle modifiche morfologiche nel comportamento morfologico di un corso d'acqua anche molto importanti. Qui siamo nel comune di Giaglione sul Clarea e questa è un'opera chiaramente voluta così perché era necessario e vediamo perché. Questo è il suo andamento nella carta dell'Istituto Geografico Militare, la primissima che è stata realizzata del 1880. Negli anni 90 è stato necessario realizzare, allocare all'interno del corso d'acqua, della sede del corso d'acqua, un bacino artificiale a servizio della centrale idrolettica di Ponventù. Quindi il Clarea è stato traslato artificialmente contro il versante idrografico sinistro ed è stato rettificato. Per fare questo è stato necessario realizzare una canalizzazione molto importante. Chiaramente avendo effettuato una rettifica si è stati costretti a realizzare una batteria di soglie per cercare di diminuire la pendenza. È evidente che in una situazione del genere una sezione completamente canalizzata diminuisce la scabrezza che naturalmente avrebbe un torrente di questo genere aumentandone la velocità. Nella fattispecie il fatto che il Clarea defluisca con tutto il suo sedimento, perché qui siamo in ambito montano, velocemente all'interno di questa sezione non ha delle ripercussioni particolari a valle, perché a valle non abbiamo niente, c'è la gola del Clarea. Ma diversamente, l'abbiamo visto in tante situazioni, soprattutto nei centri urbani, l'aver canalizzato un corso d'acqua e l'averlo costretto in una sezione insufficiente fa sì che le energie in gioco siano così elevate che qualunque ostacolo l'acqua incontri sul suo cammino diventa occasione per la dissipazione di questa enorme energia, ai danni di tutto quello che sta intorno. Come si può vedere nel filmato appunto di questo rio ferreggiano durante le ultime alluvioni di Genova, con effetti effettivamente spaventosi. La realizzazione di opere di difesa lungo le sponde fa sì anche che venga a mancare l'alimentazione di sedimento all'interno del corso d'acqua. È un tema su cui torneremo perché è importante che un corso d'acqua abbia in carico del sedimento da trasportare, perché questo gli permette effettivamente di diminuire l'energia che ha a disposizione. Ora, in una situazione come questa, dove non ho infrastrutture, non ho niente, posso anche consentire un'erosione localizzata. Poi le erosioni vanno sempre viste nel complesso del corso d'acqua e non singolarmente. Mentre sulla sponda opposta, dove invece è presente una strada, se voglio mantenere efficiente la strada è necessario effettivamente che io provveda a difenderla. Questa è una situazione di un'erosione classica di ambiente di pianura su sedimenti molto fini, che va in qualche modo affrontata perché sullo sfondo si può vedere c'è un'argine e al di là dell'argine c'è un abitato e quindi sono situazioni che non possono essere consentite. Sulla trattenuta del sedimento a monte va aperta una parentesi importante perché le briglie, le dighe, le sistemazioni montane hanno proprio come obiettivo quello di incamerare il sedimento che viene portato giù dalle montagne. Questo è un caso, per esempio, dove è stato realizzato un briglione, in realtà è un vero e proprio sbarramento con due controbriglie per garantire la stabilità dello sbarramento di monte. Questo sbarramento genera una piazza di deposito all'interno della quale si accumulano i sedimenti che vengono portati giù dal rio Prebec. Questo per cosa? Per salvaguardare il conoide a valle dove il rio scorre con una sezione a geometria fissa e dove non si vuole che avvengano dei sovralluvionamenti. La mancanza però di questo sedimento che non arriva più alla Dora nel complesso, se viene ripetuta per tanti corsi d'acqua, nel complesso fa mancare il sedimento al corso d'acqua principale che quindi diventa carente con degli effetti che vediamo tra un momento. Siamo sempre al solito ponte di Robassomero e Cirie. In questo caso queste in azzurro sono delle difese di sponda antierosive che per forza di cose sono state realizzate perché abbiamo un'infrastruttura stradale importante e soprattutto uno stabilimento di una rilevanza notevole. Non vogliamo che venga coinvolto nelle dinamiche fluviali, ma la presenza di queste opere è chiaro che irrigidisce la geometria del corso d'acqua e impedisce, perché vogliamo questo, che il corso d'acqua vada magari a rioccupare degli spazi che erano suoi in anni precedenti. L'irrigidimento si ripercuote poi sia a valle in realtà sia a monte e si associa in questo caso alle modifiche morfologiche a cui è sottoposto l'ostura di lanzo. Non è chiaramente una situazione naturale e l'abbiamo già visto precedentemente che nella dinamica generale del corso d'acqua questa situazione non è una situazione di equilibrio, infatti la soglia a valle del ponte continua a essere danneggiata. La presenza di una modifica morfologica così importante che ha generato un andamento sinuoso del corso d'acqua si manifesta anche durante le piene. Abbiamo potuto vedere infatti durante la piena del 2016 che seppure tutta la sezione era occupata dall'acqua si intravedeva bene un filone di corrente che sbatteva da una parte all'altra. Siamo poi andati, tornati dopo, l'alluvione abbiamo potuto verificare che questi rimbalzi corrispondono a delle erosioni molto pronunciate. Se noi in questo caso, come spesso viene auspicato, andassimo a realizzare delle difese di sponda non faremo altro che irrigidire ulteriormente la struttura, la morfologia dell'ostura con degli effetti chiaramente negativi. Quello che invece si potrebbe prevedere è di riattivare, se fosse ancora possibile, dei canali che qui erano presenti una volta dando diciamo una certa dinamicità all'interno della sezione del corso d'acqua. Quando abbiamo delle difese antierosive importanti come quelle che abbiamo visto ad esempio sul clarea, cioè con continuità, si genera anche una disconnessione tra la falda e il corso d'acqua, cioè non vi è più quel naturale scambio che avviene reciproco, con delle ripercussioni importanti che vedremo tra poco sull'agricoltura e sull'ambiente. Le vediamo adesso perché non è chiaramente un'opera di difesa ma ci tengo ad aprire questa parentesi sulla pratica di asportazione di materiale litoide direttamente dal corso d'acqua, una pratica che ormai non è più consentita se non entro certi limitri e in determinate situazioni ma che è stata invece ampiamente praticata soprattutto dopo a partire dalla ricostruzione diciamo nel primo dopoguerra andando avanti fino agli anni 80 e che ha generato in realtà in tutta Italia delle situazioni di scompenso morfologico molto importanti. Infatti la mancata alimentazione di sedimento e quindi perché insomma si è generato un esquilibrio perché è stato portato via genera un approfondimento del fondo alveo. L'approfondimento del fondo alveo porta con sé tutta una serie di conseguenze negative che ora andiamo velocemente a vedere. Innanzitutto genera una variazione nella morfologia, cioè nel comportamento del corso d'acqua. Qui ovviamente lo possiamo vedere in due dimensioni ma teniamo presente che la terza dimensione è quella che poi si vede sul territorio dell'approfondimento vero e proprio. Siamo a Villanova Canavese, siamo sull'Ostura di Lanzo. Questa è una foto del 54, non c'era ancora il ponte e si può vedere come il fiume è caratterizzato da più di un canale, scambi tra un canale e l'altro. È una sezione abbastanza rilevante. Nel 91 la situazione è già un pochettino cambiata, certamente c'è più vegetazione lungo l'alveo e c'è già un restringimento della sezione d'alveo. Qui è apparso il ponte e non abbiamo null'altro. L'alluvione del 2000 ha messo seriamente in crisi il ponte e ha portato a una riapertura, diciamo un aumento della sezione d'alveo. Nel contempo però, proprio a seguito, diciamo successivamente, all'alluvione 2000 è stato possibile osservare via via nel tempo l'apparire di questa formazione giallognola, qui la scorriamo nel corso degli anni, cioè si è assistito alla venuta a giorno del substrato, cioè, diciamo, della superficie su cui appoggia il materasso alluvionale dell'Ostura di Lanzo, che è comunque un materasso alluvionale importante. Questa è la foto del 2018 e il substrato ha via via una superficie sempre maggiore e in questo tratto il corso d'acqua ha un andamento prettamente rettilineo. Perché? Perché si è andato a realizzare, cioè si è creato, un canyon. Siccome il substrato è costituito da un materiale limoso alternato anche a ghiaia e sabbia, ma prevamente limoso argilloso, estremamente erodibile, il corso d'acqua lo scava a ogni, in realtà, a ogni morbida e anche la pioggia e gli eventi atmosferici contribuiscono a dilavarlo. Quello che possiamo vedere quindi osservare bene è un materiale estremamente fragile che viene messo a giorno perché sono state portate via le sue alluvioni che lo ricoprivano. Quindi questo è il chiaro segno di un abbassamento repentino, veloce, del fondo alveo che sta avvenendo adesso e che è partito, diciamo, in questi ultimi trent'anni. Queste sono, in pianta, le evoluzioni morfologiche, quella più chiara, è quella del 1880 e vediamo come si assista via via a un restringimento generale della sezione d'alveo a cui corrisponde un approfondimento, un approfondimento che, insomma, comincia a diventare importante in alcuni tratti, supera anche i quattro metri. L'approfondimento del fondo alveo genera una disconnessione tra la falda e il corso d'acqua. In questo caso la comunicazione ce l'ho ancora ma avviene a quote sempre più basse. Questo fa sì che la prima parte, diciamo, delle golene non sia più interessata dalla falda e quindi c'è una variazione nella vegetazione riparia e nel caso in cui si debba andare a realizzare dei pozzi per l'acqua le captazioni devono essere sempre più profonde. Ma l'abbassamento del fondo alveo genera anche un'inefficienza delle prese irrigue. Siamo sempre al ponte di Villanova. Questa è la situazione dopo l'alluvione del 2011 dove era stata, insomma, pesantemente danneggiata la soglia a Valle del Ponte. Qui c'è una presa di un canale che, a seguito dell'alluvione del 2016 comunque era già un lavoro previsto, è stata poi traslata a Monte del Ponte. In questo caso è stata costruita la nuova soglia, è stata realizzata la nuova opera di presa, siamo in una condizione diciamo più stabile rispetto alla situazione di Valle che dà continuità alla presa irrigua, ma sono stati spesi ovviamente molti soldi. L'approfondimento del fondo alveo genera, abbiamo già detto, delle modifiche morfologiche. Queste sono veramente eclatanti, siamo a Monte dell'abitato di Asti, tra Alba e Asti sostanzialmente. Questo è il Tanaro e si è assistito a una generale, diciamo dalla fine dell'Ottocento ad oggi, una generale banalizzazione del corso d'acqua che è diventato sostanzialmente un corso d'acqua monocursale, molto stretto e molto incassato. Anche sul Tanaro affiora il substrato, qui sono delle marne e anche in questo caso si tratta di una formazione estremamente fragile e delicata. E l'approfondimento, abbiamo potuto osservare proprio nell'alluvione del 2016, che probabilmente l'approfondimento del fondo alveo ha contribuito insieme ad altre cause anche a non occupare completamente le aree golenali destinate all'eliminazione del corso d'acqua. Quindi il volume d'acqua di piena, anziché via via occupare le aree destinate appunto al trattenere parte del volume che transita, si riversa invece nei centri abitati. E in particolare abbiamo potuto osservare che proprio nelle aree di laminazione, dove ci aspettiamo velocità abbastanza contenute dell'acqua, invece si sono manifestati dei fenomeni erosivi importanti che hanno danneggiato anche le infrastrutture, ma tipici diciamo dell'alveo di piena e non delle aree volenali. In particolare la mancata laminazione si ripercuote sempre sui territori di valle e questo è quello che è successo durante l'alluvione del 2016 ad Alessandria, dove il passaggio della piena è avvenuto sugli argini realizzati dopo il 94 con un franco, quindi con un margine di soli 10 centimetri. È evidente che più io riesco a invasare acqua sui territori di monte, che sono prevalentemente territori agricoli, più io ho possibilità di salvaguardare i centri abitati. Questa situazione è una situazione critica e se il corso d'acqua non è più in grado di alimentare le proprie golene, il rischio diventa sempre più grande. Ovviamente l'approfondimento del fondo alveo genera situazioni di questo tipo, qui siamo a Govone, siamo sempre sul Tanaro, gli interventi per mettere in sicurezza questa infrastruttura hanno avuto una spesa notevole, così come tutte le volte che dobbiamo intervenire per alzare degli argini o per farne di nuovi. Tanto per citare sempre il solito esempio, questa è la successione di quello che accade al ponte di Villanova, cioè questa soglia, vale del ponte di Villanova, è stata più volte risistemata e ricostruita fino appunto adesso nel 2018, con ovviamente delle spese a carico dei cittadini. Lo stesso discorso vale in Piemonte per il torrente Cervo, dove gli approfondimenti sono veramente spaventosi, così come, cito un caso che è un po' il caso madre del torrente Secchia in Emilia-Romagna, dove proprio a causa della mancanza di sedimento a disposizione, il corso d'acqua è andato a erodere il fondo, ha generato un canyon profondo 13 metri, anche qui in queste arenarie estremamente erodibili siamo sempre comunque con delle situazioni analoghe, che è anche molto bello dal punto di vista estetico, ma questo squilibrio morfologico ha generato dei danni ingentissimi sulle strutture interferenti, in particolare sulle strade e sulle opere di stabilizzazione che erano state realizzate. Addirittura su questa briglia è stato fatto un intervento che è costato 2 milioni di euro e il salto attualmente presente è tale da consentire la produzione di energia idroelettrica. Questa foto è del 61, è sempre Stura di Lanzo, siamo a Torino, il ponte è crollato perché ovviamente per erosione del fondo dovuta a mancanza di sedimento, i sedimenti sono stati portati via nel corso degli anni. Quindi per concludere ho messo questa foto della Stura di Lanzo a Torino e del crollo del ponte Vittorio Emanuele nel 1961 avvenuto proprio per erosione delle pile del fondo alveo, erosione dovuta alla mancanza di sedimento. Questo per tenere viva l'attenzione sul fatto che molto spesso pensiamo di salvarci dagli allagamenti portando via il materiale dall'alveo. Quante volte leggiamo sui giornali che l'alluvione è stata causata dalla presenza del sedimento in alveo. In realtà a volte ci facciamo impressionare dalla carenza d'acqua che mette in evidenza le barre e non ci rendiamo conto invece che i danni vengono proprio provocati dall'approfondimento del corso d'acqua che aumenta la sua pendenza e quindi la sua energia che poi si manifesta sulle infrastrutture piuttosto che appunto a volte sulle sponde. Quindi prima di richiedere a gran voce interventi di escavazione e di allontanamento del sedimento è importante che impariamo a guardare il corso d'acqua nella sua complessità e ci rendiamo conto, possiamo renderci conto delle condizioni in cui versa. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima!